Grazie signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, prima di cominciare la mia discussione sul decreto in oggetto, io volevo ricordare ai colleghi di maggioranza, in particolare all'onorevole Bonomo per il suo precedente intervento, nel quale ha accusato il mio collega Marcello Gemmato quasi di voler fomentare le persone, quasi come se Fratelli d'Italia fosse una cozzaia di sobbillatori del popolo contro il Governo, contro il Comune Sentire, quasi contro il buonsenso. In questo luogo noi non seminiamo l'odio, non utilizziamo il nostro ruolo e le istituzioni per creare scompiglio nella popolazione. In Parlamento la minoranza utilizza le proprie prerogative democraticamente e costituzionalmente previste per far valere le proprie ragioni e per levare la voce dell'unica forza politica di opposizione al Governo Draghi. Noi ricordiamo che questo grande rassemblement che è il Governo Draghi ha conosciuto numeri che mai si sono visti nella storia democratica del nostro Paese e sarebbe stato strano non avere neanche una voce in dissenso, una voce contraria. E proprio per questo l'unica forza di opposizione presente in Parlamento dovrebbe quasi essere in qualche modo coccolata anche dalle forze di maggioranza, perché siamo noi che in questo momento esprimiamo la vera essenza della democrazia che è quella del confronto tra una maggioranza ed un'opposizione. non siamo dei sobbiliatori di popolo. E ancora oggi, proprio per questo, ci troviamo a discutere di una nuova proroga, la proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure di contenimento della pandemia. Ancora noi oggi siamo qui a discutere del Green Pass, delle sue versioni rafforzate, super Green Pass e ormai non si sa più neanche come chiamarlo, ma la misura e la musica purtroppo sono sempre le stesse. E io infatti ringrazio anche il Sottosegretario per la pazienza che ci ascolta una continuazione su queste nostre rimostranze. Il Green Pass appunto è uno strumento che poteva essere utilizzato per liberare le persone dai vincoli, dalle imposizioni restrittive che la pandemia aveva necessariamente creato, tuttavia è diventato uno strumento ancora più grande di costruzione dei cittadini, soprattutto perché noi lo diciamo da sempre dalla sua introduzione è diventato uno strumento che introduce surrettiziamente l'obbligo vaccinale. Questo governo, nonostante gli enormi numeri, la grande maggioranza che lo sostiene non vuole assumersi la responsabilità politica di dichiarare l'obbligatorietà vaccinale generale per tutta la popolazione. Saremmo stati d'accordo? Saremmo stati contrari? Sarebbe stato un altro discorso? Ma introdurre in maniera così ipocrita il Green Pass per costringere le persone a vaccinarsi? Ci sembra quanto mai fuori luogo e soprattutto politicamente inopportuno. Noi ricordiamo che il Green Pass riduce la mobilità delle persone, riduce gli spostamenti delle persone e purtroppo riduce anche quelle che sono le possibilità delle persone di recarsi presso i negozi, presso le attività commerciali, presso i teatri, presso i cinema, con grandissimo documento dell'economia pubblica e che indirizza questi stessi flussi di persone con conseguenti flussi finanziari verso quello che è ormai lo strumento che va per la maggiore, cioè l'e-commerce e le piattaforme di intrattenimento online. Tutto questo sta portando dei disastri in mani a tantissime filiere economiche. Pensiamo ai cinema che ormai sono deserti e che anche in questo caso si vedono un'ulteriore vessazione da parte di questo governo. Ma ci ritornerò fra poco. Le attività, soprattutto quelle piccole, soprattutto quelle artigianali, le attività che magari hanno più di 50, 100 anni di storia, oggi sono costrette a subire il gravissimo colpo della crisi e la spietata concorrenza delle piattaforme di e-commerce che sono tutte in mano agli stranieri. Quindi noi vediamo paradossalmente che noi italiani acquistiamo dei prodotti su piattaforme straniere e i negozi italiani che sono l'infa, che sono controllo delle strade, controllo anche della sicurezza di interi quartieri, momenti di aggregazione anche storica, pensiamo ai locali storici d'Italia, chiudono. Questo è un grandissimo danno che ha introdotto la crisi pandemica e che purtroppo il Green Pass sta accentuando in maniera ulteriore. Io non sono un OVAX, sono semplicemente una persona di buon senso e voglio ricordare a tutti che il Green Pass non è un certificato sanitario ma è soltanto un lasciapassare. Per cui ricordo a tutti quanti, innanzitutto a me stesso, che anche con il Green Pass si è comunque contagiosi e che quindi quello strumento che voleva andare a contenere la pandemia in realtà è uno strumento che su questo punto di vista non serve assolutamente a niente. Ricordavo appunto i cinema che ormai sono deserti, le persone ormai non ci vanno più, l'intrattenimento si è spostato interamente sulle piattaforme online e poco ha fatto purtroppo questo Governo per andare a rimediare in qualche modo a questa catena importantissima della cultura e della storia anche cinematografica italiana. E soprattutto noi vediamo all'articolo 3bis che per gli appassionati di testi normativi sta a pagina 25 del decreto che abbiamo oggi in distribuzione che nell'ultima parte dice che nei suddetti luoghi ad esclusione dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibo e bevanti al chiuso. Che tradotto in italiano significa una cosa semplicissima. Nei cinema, per quei pochi che ci andranno, non sarà nemmeno consentito di consumare cibi e bevande. Noi sappiamo che quando si va al cinema banalmente si comprano pop corn, patatine, acqua. In realtà su quei prodotti che sembrano così banali le imprese, i cinema ci vanno a guadagnare di più, fatturano di più, vanno a marginalizzare di più. Impedire questo tipo di attività all'interno delle sale cinematografiche riduce ancora di più la possibilità di guadagno di queste attività che già sono in crisi e che quindi aumenta ancora di più quello che è il momento di criticità profonda che vive in questo settore. Abbiamo visto poi tutte le conseguenze che si sono avute sul settore dei trasporti, dove il Green Pass anziché agevolare, ha anzi quasi ancora di più affossato il settore dei trasporti. Noi abbiamo visto anche in questi giorni la importantissima protesta degli autotrasportatori anche sull'aumento dei costi, dove il Governo avrebbe potuto impegnarsi maggiormente. Ritornando sui cinema, nel momento in cui c'è questa mancanza di consenso e di aggregazione intorno alla norma è facile che questo tipo di attività commerciali possano non ottemperare al massimo quelli che sono i controlli sui divieti imposti, per cui oltre ai danni economici poi vanno incontro anche ad eventuali sanzioni. Siamo contrari a quella che è l'introduzione del Super Green Pass anche per i lavoratori, perché magari potrebbero essere indispensabili in quel momento per il percorso produttivo a cui loro sono chiamati ad adempiere e soprattutto siamo contrari ad una pratica quasi barbarica di non voler considerare anche i casi specifici dove la persona, non per sua colpa ma per un semplice problema informatico o legato alla burocrazia, la persona anche se ha ottemperato a tutti gli adempimenti vaccinali, si vede negato il Green Pass perché semplicemente non c'è dialogo tra le varie amministrazioni dello Stato. E io voglio ricordare che c'è un mio ordine del giorno, signora Presidente e rappresentanti del Governo, che è stato anche approvato ma che tuttavia non è stato mai attuato. Noi vogliamo ricordare che c'è stato purtroppo il caso di un ammalato che purtroppo non aveva la possibilità di esibire il Green Pass e che qui è stato anche impedito di prendere un mezzo di trasporto per potersi regare sui luoghi di cura. Se fosse stato attuato questo mio ordine del giorno, questo problema non si sarebbe mai avuto ma io non demordo e lo ripresento un'altra volta come ordine del giorno a questo decreto nella speranza che finalmente il Governo possa non soltanto attuarlo ma creare anche un centro unico di interventi per risolvere i problemi burocratici sul Green Pass perché altrimenti non soltanto sia il danno ma anche la beffa. Poi posso dire con orgoglio che siamo contrari all'applicazione di una sanzione agli over 50 non vaccinati perché lo consideriamo un abominio soprattutto alla luce dei tantissimi ricorsi che ci saranno al TAR contro questa misura. Noi abbiamo visto e qui mi rivolgo e do la mia solidarietà a tutti i militari e forze dell'ordine che sono stati sospesi dal loro servizio per non aver ottemperato agli obblighi vaccinali e soprattutto voglio ricordare al Presidente per il suo tramite al Governo che il TAR si è pronunciato a sospeso quelli che sono gli effetti della sospensione dal servizio e quindi della decurtazione conseguenziale degli stipendi per cui noi abbiamo visto che queste norme fuori di testa in alcuni casi sono anche fuoriere poi di una inflazione di quello che è il condensioso, di un aumento di quelli che sono i ricorsi al TAR quindi con un conseguente ingolfamento della macchina giudiziaria già duramente provata dalle carenze strutturali ormai croniche che il nostro Paese ha nel settore della giustizia. Poi sempre per gli appassionati, i miei colleghi qui vedo purtroppo poco attenti al mio intervento, all'articolo 4 TER che sta a pagina 26 per chi volesse seguire. Io intendo far notare una cosa importantissima, l'articolo 4 TER va a normare il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l'istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali. Questo articolo vorrebbe a parlare di quello che è il contenimento dei prezzi, la calmerizzazione dei prezzi per quanto riguarda le mascherine, soprattutto le FFP2 che sulla variante Omicron hanno un'importanza veramente fondamentale. Ebbene, questo tipo di mascherine noi dobbiamo, per mantenere dei prezzi calmierati, andarci a rifornire non su un mercato italiano, quindi con prodotti made in Italy che danno una grandissima affidabilità e garanzia non soltanto in tema di salute e di qualità stessa delle mascherine, ma soprattutto perché coinvolge anche una filiera industriale tutta italiana. Ma purtroppo appunto per mantenere nei limiti dei 75 centesimi per mascherina, noi purtroppo siamo costretti, o meglio gli esercenti sono costretti ad approvvigionarsi presso mercati stranieri che magari non garantiscono questa qualità, magari non garantiscono l'affidabilità dei tessuti e della struttura stessa delle mascherine, per cui potenzialmente, mi auguro che non avvenga, noi potremmo anche indossare delle mascherine che potrebbero essere anche completamente inutili. Per questo io sollecito per il suo tramite, signor Presidente, il Governo a prendere come impegno una seria ricognizione di tutte quelle che sono le imprese italiane che producono sistemi di protezione personale contro il Covid perché semplicemente anche la stessa qualità delle mascherine può influenzare in maniera determinante quelle che sono le minori o maggiori possibilità di rischio. E poi voglio ricordare, e questa sembra quasi una misura irrazionale, che la calmerizzazione delle mascherine in questione è rimessa semplicemente alla volontarietà dell'accettazione del rivenditore. Quindi non è una norma che garantisce i prezzi bassi, per cui noi sempre paradossalmente potremmo trovarci degli esercenti che, per marginalizzare di più, paradossalmente vanno a provvigionarsi su mercati stranieri e vendono allo stesso prezzo delle italiane le mascherine con un doppio danno sia per il sistema nazionale sia per il consumatore finale. Ma questi sono tutti pensieri dell'unica forza di opposizione che oggi sta ragionando e che sta discutendo su questo decreto, che magari saranno semplicemente lettera morta. Noi adesso, io non so quanto tempo mi rimane, ma mi avvierei Presidente alla conclusione con due appelli. Siamo tra i pochi paesi in Europa e forse anche nel mondo a possedere tutte le capacità tecniche e anche il know-how e il capitale umano per produrre ed elaborare un vaccino. Il vaccino italiano non si sa più che fine abbia fatto. Ci aspettavamo che con le tempistiche e con tutte le risorse che sono state stanziate per il Covid ci fosse un intervento sentito da parte dello Stato per un elemento fondamentale, quale appunto il vaccino, e che fosse realizzato quanto prima un vaccino interamente italiano. Noi abbiamo visto che anche i paesi che fino a ieri non possedevano capacità tecnologiche tali, oggi si sono dotati di infrastrutture e di mezzi atte a produrre vaccini nazionali e che stanno usando molte volte il vaccino come strumento non soltanto sanitario ma anche di potenza, uno strumento che va ad interferire anche con la geopolitica un uso politico oltre che sanitario del vaccino. L'Italia in questo momento è completamente fuori da questo discorso. Spero, come è tante volte accaduto nel nostro Paese, che il vaccino italiano non esca alla fine della pandemia, quando ormai non sarà servito più a nulla e magari si saranno soltanto buttati, sprecati dei soldi pubblici. Quindi io prego alla signora Presidente di portare questo mio appello, questo mio primo appello al governo. E poi, come secondo, la crisi pandemica e l'emergenza per sua stessa natura non può essere cronicizzata, non può essere portata sempre avanti, ma a natura transitoria. Oggi molto probabilmente apporremo l'ennesima fiducia sull'ennesimo decreto che il governo propone senza essersi interfacciato, se non per i pareri di rito, con le commissioni e con i parlamentari. Non vorrei che si arrivasse a fine emergenza mai, soprattutto perché alla luce del fatto che in altri Paesi si stanno cominciando ad allentare le morse dei sistemi di controllo della pandemia. Gli effetti si stanno andando a mitigare e alcuni Paesi stanno cominciando a pensare anche di abolire il Green Pass e i suoi derivati. Mi auguro che l'Italia possa arrivare presto anche a queste considerazioni, nella speranza soprattutto di andare a liberare, diciamo così, quelle che sono le categorie più deboli, i minori, specialmente i bambini piccoli che stanno sempre chiusi in casa e che stanno avendo degli effetti psicologici devastanti, i disabili. Ricordiamoci dei disabili che tra terapie mancate, impossibilità ad uscire perché sono anche soggetti fragili nella stragrande maggioranza dei casi, i disabili stanno soffrendo ancora di più. Io faccio mio anche un appello della Commissione europea perché la continuazione dell'applicazione di questi strumenti restrittivi, protratti per tanto tempo e anche nell'introduzione di un'eventuale quarta dose, quarta dose di vaccino, fa perdere quello che è il consenso intorno alla norma, va a screditare le istituzioni che propongono questi strumenti restrittivi e soprattutto fa venire meno anche la fiducia nella scienza da parte dei cittadini. E soprattutto un'altra questione ancora e poi veramente concludo, signora Presidente, anche in questo caso l'Unione europea si è dimostrata non un'unione ma semplicemente un assembramento di Stati dove ognuno decide un po', diversamente dagli altri, quella che è la disciplina del proprio Paese. E la Commissione europea appunto ha detto che misure non uniformi in ambito UE possono indebolire la fiducia nel vaccino. Come possiamo vedere anche in questo caso non è la tenuta delle istituzioni che importa di più agli organismi europei ma quello che è il prodotto, cioè il vaccino. E questo dà tanta linfa al movimento No Max e a tutti i complottisti e fa perdere ancora di più la fiducia nelle istituzioni. Facciamolo, cambiamo registro per i nostri cittadini ma soprattutto per le istituzioni che noi oggi ci onoriamo di rappresentare. Grazie. Grazie.